Ciao a tutti i fan di wrestling, mio nome è Mr. Excellent. Dicono che sono il più tecnico in tutto l'Italia. Ma, beh, voglio provare che sono il migliore tecnico in tutti voi. E per farlo bisogna arrivare all'Ungheria. Perché ho sentito che c'è un'ottima tecnico in tutto l'Italia. Sto parlando di voi, Shane Baker, il migliore PwM lightweight champion. Voglio prendere me stesso contro voi. Ho venuto da 17 anni di esperienza di submission wrestling style. E ho avuto così grandi come Claudio Castagnoli, Jack Gallagher, Zack Sabre Jr. E, aspettate, Johnny Zane. Ma ora, ho venuto per te. Ho venuto per il tuo titolo, il tuo PwM lightweight championship. Va bene, mi fa bene, mi fa bene. Va bene, mi fa bene, mi fa bene. Va bene, mi fa 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 bene. La mia collezione di bambini. Siamo per te nel 14 ottobre 2017, in Budapest. Come si può prendere, Hungria. Come si può prendere, Shane Baker. Perché PwM si può diventare... E' un'accellente!